E' un straordinario prato che anche quest'anno realizzeremo in piazza Trento Triete, che l'anno scorso ha avuto tanto, ma tanto successo. Anche quest'anno lo riproporremo con l'invito di calpestare, soprattutto ai bambini. Ancora una volta io vorrei, sono sicuro che riusciremo a rendere la piazza una piazza vissuta dalle famiglie, dalle bambini, dai cittadini, che qui potranno riappropriarsi a qualche modo di un luogo che spesso li ho proprio preso. Un programma ricchissimo, si parte con l'inaugurazione che mi accade a Fisichella, che è neanche il salto per l'asta in piazza. Esattamente, perché anche quest'anno abbiamo voluto introdurre una serie di novità, che si aggiungono rispetto a quella dell'edizione dell'anno scorso. La presenza di Fisichella è il ricordo di Enzo Ferrare, dopo il 25esimo anniversario della sua scomparsa. Un uomo che ha creduto in un sogno, che il suo sogno l'ha realizzato. In fondo è un uomo che ha legato in maniera irrasolubile, quantomeno il marchio della Ferrari alla città di Monza. Un binomio che non può assolutamente prescindere dal Gran Premio di Formula 1 e dalla storia dell'automobilismo. E' per noi importante che ci sia Fisichella, che è stato l'ultimo pilota italiano che ha guidato una Ferrari. Poi ci saranno tantissimi altri eventi, sono talmente tanti che consiglio a tutti di procurarsi una copia del programma, perché davvero sarebbe difficile raccontarli tutti. Però sono eventi che sono anche all'insegna della solidarietà. Ci sarà uno spazio legato alle associazioni che si occupano di solidarietà a Monza, ci sarà un polo del gusto. E poi quest'anno c'è anche la novità di Piazza Cambiaghi, che diventerà una grande piazza dove si faranno tanti sport. Sono più di 20 le associazioni sportive che hanno raccolto il nostro invito. E poi la conclusione, questo salto con l'asta in notturna, sabato, credo sarà in via degli Zavattari, credo che sarà anche molto suggestivo. Ecco, come spettacolo, oltretutto saranno prestazioni di carattere sportivo, perché troveremo dei campioni che salteranno ad altezze davvero impensabili, almeno per me.